Ciao amici, oggi vi parlo del mio ultimo acquisto. Ero alla ricerca di un tablet da divano, dove per da divano intendo un tablet per navigare su internet e utilizzare le app di streaming per vedere, che ne so, Prime Video, Free Play, Netflix, eccetera eccetera con possibilità anche di utilizzare le app social più comuni, quindi Facebook, Instagram, quello che è. Comunque sto parlando di app che non hanno una necessità di avere performance hardware da parte del dispositivo chissà quanto importanti. Dunque la scelta che ho cercato di fare è stata quella di spendere il meno possibile e andando su Amazon mi sono accorto che sui 100€ c'erano un po' di possibilità di acquisto. Alla peggio, se il dispositivo non fosse rientrato nelle mie necessità, diciamo, fosse stato in grado di soddisfare le mie necessità avrei potuto tranquillamente restituirlo. Ora, intorno ai 100€ avevo possibilità di scegliere tra vari dispositivi e ho optato per questo. Questo tablet si chiama Simplory. si presenta con una confezione così, anonima, bianca, con su scritto solo il nome del tablet o della marca o del venditore. Non l'ho ben capito, ma mi premeva che acquistassi un dispositivo comunque che avesse almeno 4GB di RAM, almeno 64GB di memoria. non me ne serve tanto perché comunque l'utilizzo che ne avrei fatto sarebbe stato per lo più con, come detto, app di streaming. Quindi non mi interessava avere memoria sul dispositivo, ma comunque la possibilità di avere una scheda SD per espandere la memoria sarebbe ritorna da utile quando avessi dovuto caricare video perché, per esempio, a volte mi capita di viaggiare e portarmi dietro serie scaricate da internet. Diciamo che questo non è il mio dispositivo, è questo che ho fatto per un'altra persona, però ho pensato ai possibili casi d'uso. Vi dicevo, ho optato per questo Simplory perché costava meno di 100€, quindi rientrava nel budget. soddisfava tutti questi requisiti, aveva un processore quad core, che comunque era quello che mi interessava, e poi aveva una confezione un pochino più accessoriata rispetto agli altri perché aveva già di serie questa cover, che per me è indispensabile avere, e come vedete è una cover anche di qualità perché c'ha il bordo che sporge e la custodia abbastanza rigida e permette di posizionare il tablet in maniera consona a quello che è l'utilizzo che ne andrei a fare, quindi è così poggiato su, ad esempio, un divano oppure in posizione, diciamo, più diritta, quindi poggiato sull'altro lato, per capirci così. E ci resta, come vedete, si incastra e... Sì, ci dovrei riuscire, ecco. È magnetica e resta anche così il tablet. Torniamo nell'altra posizione perché mi è più comodo raccontarvi di questo tablet. Ora, domanda, come va? È riuscito a soddisfare le mie necessità? Vi dico la verità, all'inizio pensavo di no, temavo proprio di no perché dopo aver installato... dopo aver acceso il tablet, averlo configurato e aver messo in coda sul Play Store le app che volevo utilizzare e installare, il tablet è diventato particolarmente lento perché da una parte scaricava queste app che avevo messo in coda e dall'altra, aggiornava le app di sistema. Quindi era scattoso e proprio lento, direi quasi inutilizzabile. Dunque, inizialmente temevo di dover procedere a reso di lì a breve. Dopo un po' di tempo, invece, l'ho lasciato lì a lavorare e vi dico la verità, l'esito, il risponso rispetto all'esperienza d'uso di questo tablet è cambiato. Vi dico, aggiungo un piccolo dettaglio. Oltre alla cover, che per me è indispensabile, in confezione erano anche comprese questa pennetta che si può utilizzare col tappino per evitare di toccare col titino lo schermo. Inutile però c'era, quindi bene. Il classico, vabbè, carica batterie con chiavetto, ahimè, non velocissimo, quindi per caricare il tablet ci si impiegano 4 ore. Cosa invece comoda? Era l'allattatore. USB-C USB. Questo comodo perché si può utilizzare una pennetta, una chiavetta USB standard per trasferire dei dati sul tablet. E se dovete trasferire, come magari dovevo farlo io, serie TV o foto, questo risulta comodo. Poi se riuscite anche a espandere la memoria tramite microSD, se vi dovesse servire, capite che questa è una comodità in più, soprattutto compresa nel prezzo, quindi non fa male. Vi dicevo, dopo aver atteso il download dell'aggiornamento di tutte le app di sistema e il download di tutte queste app, o vi dico che la fluidità del dispositivo è più che sufficiente per l'uso che pensavo di farne. Quindi vi mostro come si avviano le app di streaming, che sono quelle che alla fine andrebbero ad essere utilizzate per lo più su questo tablet. Sì, non è una scheggia, l'avvio non è immediato, però le app, come vedete, girano. Bene, non lo so. Ditemelo voi. Però permettono di... Quello che vedete è che ho la possibilità di vedere, diciamo, il video. Senza troppe pretese, ma ci riesco. L'audio non è il massimo, ma... Chi è il poliziotto qui? Si sente. Un altro. E come questa, anche le altre app funzionano, diciamo, nello stesso modo. Quindi tempi di avvio ragionevoli, qualità dello streaming discreta, per un uso da divano, secondo me, questo tablet non è male. E soprattutto, considerando che viene proposto a meno di 100€. Piccolo minus, anzi, cominciamo con i minus, che chiaramente ci sono, visto anche il prezzo di questo dispositivo. Scelta progettuale discutibile, hanno messo i due altoparlanti solo qui. Quindi che succede? Se lo usiamo in questo modo, quindi con la cover, va bene, perché gli altoparlanti non vengono coperti. Né se il tablet è messo in questa posizione, né se è messo nell'altra posizione, quella verticale. Però, se voleste utilizzarlo senza la cover, e vi capita di poggiarlo sul bordo, chiaramente vengono coperti gli altoparlanti, quindi il suono ne risentirebbe. Poi, vabbè, i problemi di lentezza all'avvio, in fase di configurazione del tablet, più che all'avvio, ci possiamo fare poco, perché l'hardware è comunque limitato. E' un prezzo da pagare, visto il prezzo. E altra cosa, visto il prezzo basso, e altra cosa è che, da questo punto di vista, la ricarica del device è lenta. Quindi, per portarlo da 0 a 100 ci vogliono 4 ore. Ora, chiaro, se pensate di non avere necessità di una ricarica rapida, perfetto. Se dovete caricarlo, se sapete già di dove lo caricare, avete poco tempo a disposizione, chiaramente non è questo il tablet. E chiaramente, penso che dobbiate valutare delle cifre da spendere più alte. Tornando poi alle performance, vi faccio vedere come si avvia Facebook. Questo si naviga tranquillamente bene. Instagram. Vabbè, dovrei girarlo, però è giusto per darvi un'idea di come gira, di come funziona, di come si avvia, dei tempi di avvio. Cioè, è possibile navigarlo. Non è chiaro la performance migliore che abbia mai visto, però funziona. E poi ho cercato anche di spingermi oltre. Cioè, ho provato a capire se e quanto potesse essere utilizzato per il gaming. Vi dico già da subito che il gaming non fa per questo tablet. È scontato la palistiana, ma ve lo dico lo stesso. Perché comunque l'ho provato. Quindi, queste tre app che vedete, Real Racing, questi giochi, Real Racing, Mini Football, Car Mechanic, bla bla bla. Girano, ma girano a scatti e sono ingiocabili. Quindi, no. Diciamo, lo toglierei proprio... Escludo la possibilità di utilizzare questo tablet per un gaming con giochi di quel tipo. Mentre, se vi accontate di giochi diversi, come per esempio la classica scopa, sì, questa è possibile utilizzarla. Il tablet riesce a farvi completare una partita. Non è fulmino nel caricamento, come vedete. Però, alla fine, riusciamo a completare una partita a scopa. Volevo farvi vedere, ma ci sta mettendo un po'. Ci riusciremo. Ah, altra cosa. La rete Wi-Fi funziona solo sulla banda 2.4. Non vede proprio la banda a 5 GHz. Quindi, non che sia un problema nel mio caso, però ve lo sottolineo. È un minus che, secondo me, è corretto sottolineare di questo tablet. Quindi, dicevamo, come... Sì, vabbè, è molto interessante. Tralasciando i tempi di caricamento è possibile giocare anche a scopa. Adesso mi sta facendo fare tutto il tutorial, perché, in effetti, non è che volessi giocare a scopa. Però, solo per verificare la possibilità di utilizzare questo benedetto tablet. E, vabbè. Ok. Vedete che gira. Vi confermo che è possibile giocare a scopa. Ora, vi lascio in descrizione sia il link all'acquisto, sia il link sull'articolo che ho fatto sul mio blog. Ripeto, per entro i 100€ sono più che soddisfatto dell'acquisto, perché è un tablet che permette di fare l'uso da divano che cercavo. Quindi, per lo più, streaming e principali app di social. Lo escluderei per il gaming, a meno che non vi piaccia giocare a scopa, oppure a giochi punta e clicca, li chiamo io. Quindi, quelli che non hanno bisogno di utilizzare troppe risorse. E la confezione di acquisto è particolarmente completa, perché, come vi ho fatto vedere, trovate una cover discreta, che avrei comunque comprato perché il tablet andrà in mano a una persona che un pochino ha la tendenza di far cadere gli oggetti. Mettiamola così. E poi ci sono degli altri accessori che, secondo me, non guastano. Dal solito, se avete dubbi, suggerimenti o altro, lasciatemi nei commenti e vedrò di rispondervi appena possibile. Ciao a tutti! Ciao a tutti!